Il premio Veio, handicap riservata ai Cavaliari e alle Amazzoni sul doppio chilometro, tutto pronto per il segnale di partenza. Sono partiti. Buono il break da parte di Mamma Dalila, che si pone all'evidenza dopo i primi 200 metri di gara nei confronti di Marple. A largo Dolce Sadowa, ridosso Galoppa Parnassus nei confronti di Canal Grande. Mamma Dalila ha preso notevole vantaggio in addirittura di arrivo per il passaggio davanti alle tribune. Ad ampio intervallo insegue Dolce Sadowa, che all'interno Marple ha largo Parnassus nei confronti di Canal Grande. La dinamica tattica della gara ha assunto una situazione molto particolare con Mamma Dalila, che adesso cerca di gestire le proprie risorse in avanti all'inizio della seconda curva. Una decina di lunghezze avanti rispetto a Dolce Sadowa all'interno Marple a largo Parnassus nei confronti di Canal Grande. Mamma Dalila è ancora in evidente vantaggio al completamento della seconda curva nei confronti di Dolce Sadowa e Marple a largo Parnassus, quindi Canal Grande. La leader mantiene notevole vantaggio ed incrementa le proprie lunghezze rispetto a Dolce Sadowa, che deve praticamente fungere da elastico rispetto agli avversari, con Canal Grande che prova a muovere a largo nei confronti di Parnassus e Marple. Mamma Dalila è ancora in netto vantaggio all'ingresso della piegata conclusiva nei confronti di Dolce Sadowa, Marple, Canal Grande e Parnassus. Quando siamo a metà della piegata conclusiva è ancora Mamma Dalila nettamente in vantaggio nei confronti di Dolce Sadowa e in maniera generosa si lancia l'inseguimento della battistrada che si mantiene ancora nettamente all'evidenza. In addirittura di arrivo Mamma Dalila è ancora in netto vantaggio nei confronti di Dolce Sadowa e Canal Grande. Mamma Dalila mantiene ancora la posizione nei confronti di Dolce Sadowa e Canal Grande, quindi Parnassus e Marple. Mamma Dalila è ancora in nettissima evidenza nel finale, riesce a portarla fino in fondo in maniera davvero coraggiosa. Vince netta Mamma Dalila nei confronti di Dolce Sadowa per il terzo. Sono molto vicini sul traguardo a largo a Canal Grande all'interno Parnassus.